gentili telespettatori buona giornata beh la sinistra prima chiede le dimissioni di quasi tutti i ministri di centrodestra e i sottosegretari e poi si passa alle leggi ai provvedimenti ma oggi il ponte sullo stretto diventa il bersaglio il nuovo per la sinistra diventano quelli dei no alle opere del centrodestra no alle trivelle no al ponte no al riasificatore no all'alta velocità no al nucleare no alle 150 chilometri all'ora in autostrade in alcuni tratti sono quelli del no quelli contrari alle grandi opere a prescindere a priori senza motivazione spesso dice beh avranno una motivazione anche strana a volte si inventano qualcosa spesso cose senza nessun tipo di fondamento dentro ci sono gli ambientalisti perché le grandi opere comunque rovinano l'ambiente all'interno c'è la sinistra il movimento 5 stelle ci se c'è parte del pd oggi quel famigerato ponte sullo stretto che aveva voluto berlusconi poi fermato dalla sinistra quando berlusconi è caduto oggi portato avanti da salvini con la benedizione di silvio diventa la cosa più brutta che si può che possa accadere in italia vada e retro ponte sullo stretto perché non è antisismico invece tutte cose poi che alla fine in gran parte sono delle fanfaronate inventate così l'opposizione si ricompatta contro il ponte sullo stretto voi direte perché osteggiare questa questa opera ciclopica che porterà turismo andrà a velocizzare il movimento delle persone delle merci quindi porterà un vantaggio all'italia anche in termini di lavoro l'indotto che ci sarà sarà enorme quindi porterà per cinque anni tanto lavoro in quelle zone dove ti giri ti giri non c'è una fabbrica manco a pagarla ecco si riparte col progetto abbandonato nel 2011 quando cadde berlusconi che l'aveva già avviato arriva alla sinistra la prima cosa che fa e fermare subito quello che voleva fare berlusconi voi direte perché l'ha voluto fermare solo perché lo faceva berlusconi possibile certo sono gli odi ideologici che alla fine si riversano contro il proprio paese fermare il ponte sullo stretto l'opera che oggi sarebbe già finita da anni è stato un gesto anti italiano per eccellenza ma a sinistra sono famosi per l'anti italianità poi in questi giorni c'è anche il rigassificatore di piombino ecco poi per fratto gli anni si passa di fatto sulle comunità e sulle istituzioni locali il leader di sinistra verdi stiamo con la gente di piombino che non vuole un'infrastruttura del genere nel porto vedete la sinistra neanche ragiona non si pone neanche il problema che di che cosa sia il rigassificatore e perché serva loro stanno dalla parte della gente e quando le bollette triplicano del gas siete dalla parte della gente cari sinistri siamo dalla parte della gente se foste veramente dalla parte della gente direste sì al rigassificatore perché serve per essere dalla parte della gente e abbassare le bollette ovvio che il rigassificatore nessuno lo vuole vedere sotto casa perché non è neanche bello da vedere in qualunque parte del dell'italia tu volessi mettere quel rigassificatore si lamenterebbero tutti chiunque quindi caro bonelli prima di parlare ragionare ragionare è anche fratto gli anni ragionare fratto gli anni sedersi cinque minuti e ragionare va bene e poi dicono sempre bonelli fratto gli anni venga trovata una collocazione alternativa ragionare di nuovo da qualunque parte tu voglia mettere quel rigassificatore ci sarà sempre della gente che voi dovrete andare a difendere e cosa andrete a dire di nuovo venga trovata una collocazione alternativa ragionare usare il cervello bene ma sempre gli stessi ad esempio sul piano delle trivelle che serve ad aumentare la produzione nazionale di gas per essere più indipendenti e per avere dei prezzi più bassi cosa dice la sinistra verdi cinque stelle il piano trivelle porterebbe indietro l'italia indietro dove capite che queste cose qui non hanno nessun senso il piano trivelle visto che l'italia produceva 20 miliardi di metri cubi ultimamente non arrivava neanche a due miliardi una riduzione del 90 per cento cioè l'esigenza di ripartire con le trivelle per riaumentare la produzione italiana di gas ed essere più indipendenti e cercare di abbassare i prezzi la sinistra dice riportano indietro l'italia ma come si fa a dire delle cose senza senso perché dire una cosa così è assolutamente illogico ed è contro l'italia questa è un'altra dimostrazione che la sinistra è anti italiana ve l'ho appena dimostrato non si può dire non è vero ve l'ho appena dimostrato per il pd l'attività di ricerca e coltivazione di giaccimenti di idrocarburi gas rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino due giorni fa i 5 stelle in puglia hanno detto che il governo non può continuare a prendere decisioni senza ascoltare i territori puntare sulle trivelle una scelta sbagliata a e perché i 5 stelle non ci dicono qual è la loro soluzione non ce l'hanno a non sanno cosa dire a sanno solo dire no a questi li conosciamo sono quelli del no a priori senza sapere il perché e senza un'alternativa tipico classico del politico per caso quello che dice no no quella roba no perché perché no no e basta ma di spiegamelo non devo spiegare niente no e basta il discorso di chi non può spiegare è il fatto che non ha una spiegazione non è che non può spiegare non ha una spiegazione non sa cosa dire non sa niente di quel di quell'argomento e dice no senza sapere il perché dice no grazie a tutti e arrivederci a presto